Musica Ciao ragazze, finalmente nuovo video è una settimana che non riuscivo a girare un video mi siete mancate tantissimo e so che a tante ragazze sono mancata perchè mi avete mandato dei messaggi in privato veramente carini dicendomi ah non hai fatto il video io aspettavo un tuo video tante ragazze mi hanno scritto proprio sotto i commenti dei video che si rilassano a vedere i miei video ragazze mi fa veramente piacere veramente grazie, grazie, grazie di cuore finalmente riesco a girare questo video e vi voglio farvi vedere cosa c'è dentro questa bustina però prima di farvi vedere cosa c'è dentro questa bustina vi volevo dire due cose importantissime la prima è veramente importante perchè la ragazza che ha vinto l'anno e che due non si è ancora fatta sentire io ho fatto l'estrazione l'8 gennaio oggi è il 22 gennaio e lei non mi ha ancora mandato i dati quindi voi vedrete questo video domani ve lo devo subito che sarà il 23 gennaio comunque non mi ha ancora mandato i dati io gli do tempo fino a domenica il 27 gennaio dopodiché se non mi manda i dati io rifarò di nuovo il video dell'estrazione perchè ho voluto dare tutto questo tempo perchè tante ragazze se ne sono accorte che mi hanno detto ma come mai ancora non si è fatta sentire perchè non hanno visto nessun commento io ho detto non lo so non si è fatta sentire diamovi un po' di tempo tanti ragazzi mi hanno chiesto di non dare troppo tempo però io ho deciso di dare un po' più di tempo ragazze perchè io sono nuova su youtube veramente da poco che sono su youtube e quello è stato un giveaway veramente importante però dai prossimi giveaway veramente imporrò la regola di una settimana quindi se non si fanno sentire entro una settimana ci sarà nuova estrazione comunque questa ragazza ha tempo fino al 27 gennaio dopodiché nuova estrazione e naturalmente vi terrò informate quindi se si farà sentire vi terrò informate sulla pagina facebook nei prossimi video vi dirò ragazze e la ragazza se è fatta sentire naturalmente per chi non ha facebook se invece non si farà sentire il nuovo video la seconda cosa che vi devo dire anche questo è importante perchè non ho ancora fatto il giveaway dei 1000 iscritti anzi dei 1200 iscritti per ringraziarvi perchè veramente sono state due settimane piene 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 zeppe di cose chi vede tutti i miei video sa che sono stata male quindi ho avuto dei problemi sono guarita sono tornata al lavoro mille impegni mille cose non sono ancora riuscita a fare questo giveaway ma ci sarà la deve un altro po' di tempo ma ve lo farò e visto che tante ragazze mi hanno mandato dei messaggi privati chiedendomi perchè non metti una naked non metti la naked con la normale dai mi rimetti un'altra la naked 2 ragazze non mi pare carino mettere subito la naked più là ci sarà un altro giveaway con la naked adesso ho pensato di fare un giveaway della mac quindi il prossimo giveaway quello più importante perchè è quello di ringraziamento per i 1200 iscritti sarà un giveaway della mac non vi posso dire che cos'è che cosa sarà perchè se no la sorpresa dove sta è fatta anche la rima e quindi non ve lo posso dire dovete aspettare un altro pochino oggi vi volevo far vedere invece cosa c'è dentro questa vestina siete curiosi eh lo so che siete curiosi allora vediamo un po' che cosa ho preso allora chi mi segue da tempo chi mi segue anche sulla mia pagina facebook e sul blog sa che mi piace fare giveaway anche sulla mia pagina facebook e sul mio blog quindi ho fatto un giveaway sia sul blog e sulla mia pagina facebook e vi volevo invitare a partecipare naturalmente se avete l'account per il blog e per il facebook vediamo un po' che cosa ho preso allora ho preso il mascara I love extreme ve lo zoom un attimo eccolo qui questo mascara veramente sono secoli e secoli che lo cercavo però non l'ho mai trovato e sinceramente non l'ho mai provato perché se non è andata ne ho trovati due e li ho presi al volo veramente ragazze perché sapete quando si va agli stand dell'essence non si trova mai niente io non so se andate sulle pagine facebook ma se andate sulle pagine facebook anche dell'essence quella ufficiale vedete quegli stand belli e pieni di cose no? io sto lì con gli occhi di fuori e dico pensa che bello andare all'ovs e trovare lo stand dell'essence così carico zeppo di cose che non sai che cosa acquistare sarebbe un sogno però io personalmente ogni volta che vado non trovo mai niente trovo sempre rimanenze qui di questo ce ne erano due e li ho presi quando l'ho visto ho visto tipo l'apparizione perché da quando è uscito lo sto cercando io non l'ho ancora provato e neanche lo proverò perché ne ho presi due questo è per facebook e quell'altro che ho preso sicuramente lo metterò in palio per voi quindi non lo proverò mai questa mascara tutte ne parlano bene io non vi posso fare la recensione poi ho preso la matita invece che ve la posso recensire perché l'ho trovata e questa qui l'avevo presa tipo due mesi fa quindi pensate voi devi accumulare i regali questa qui l'ho presa due mesi fa l'ho presa anche per me perché ne avevo trovate due quindi una me ne sono tenuta per me l'ho provata mi è piaciuta veramente tanto un'ottima matita e una ragazza perché poi quando si fa nei giveaway è brutto perché non si può commentare quello che voi scrivete no? perché sennò poi mi straguo da sola succede un casino quindi è meglio che non commento però una ragazza diceva in un commento proprio su facebook che questa linea la stanno togliendo dice che praticamente non ci sarà più in commercio ma verrà sostituita dalle nuove collezioni infatti se andate sulle varie pagine facebook dell'essence che sono veramente tante non mi ricordo adesso quale in una pagina si vedevano i nuovi arrivi 2013 e c'era il mascara che era praticamente tutto rosa e la scritta nera e quindi hanno cambiato un po' questa linea quindi non so se questa matita non la faranno più perché non ho potuto commentare ragazze e chiedere informazioni però lei era molto informata su questa cosa quindi sarà anche una matita che veramente sia una matita una linea che forse andrà ad essere sostituita da un'altra linea quindi se volete approfittare di questo giveaway vi invito sulla pagina facebook poi ho preso le eyeliner anche questo io non l'ho provato era l'ultimo e l'ho preso al volo così veloce subito veramente ho trovato due mascara un eyeliner che cosa è successo me l'avete lasciato proprio per me quindi l'ho preso al volo perché volevo metterlo in palio poi era carino avere un po' tutta la linea e molte ragazze sui commenti mi hanno scritto che è buono io non so che dirvi ragazze perché non l'ho recensito e poi ho trovato i pigmenti i pigmenti sono fantastici sono veramente belli provo a zoomarlo più di così no perché se vado avanti si sfoga comunque è un grigio veramente bello 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 brilla tantissimo è veramente bello quanto mi piace peccato che c'era solo questo se no l'ha ripreso anche per me veramente bello questo è un pigmento ah volete sapere il numero è lo 05 vabbè tanto che video che ho a fare i numeri perché quando andate all'essence non si sa quello che si trova cioè quello che trovate dove prende io ogni volta che vado vado con intenzione di prendere delle cose trovo quelle di tre mesi prima quindi comunque lo 05 e poi questa chiave che ho preso è una chiave con una corona con tutti i brillantini con tutti i svaroschi che ho preso in un negozietto molto carina che vende tutte queste cose di bigiotteria non so se sto sfogando ed è una chiave che potete attaccare al braccialetto perché come vedete ha il gancetto adesso lo faccio vedere vedete ha il gancetto quindi potete attaccarlo al braccialetto oppure potete utilizzarla come portachiave potete metterla nel portachiave potete fare un po' tutti gli utilizzi che volete è molto carina è molto particolare mi piace tantissimo guardate quanto brilla è veramente bella 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 è arrivato un messaggio nel frattempo sarà sicuramente Max che mi sta dando per dispersa e niente ragazzi questi erano i miei regali che ho messo sulla mia pagina facebook e siete tutte inviate a partecipare andate anche sul mio blog perché troverete un altro giveaway e presto vi farò il video del giveaway del blog per farvi vedere bene il colore di che cosa ho scelto presto arriverà anche il vostro giveaway per 1200 iscritti io vi mando un bacione enorme vi voglio un mondo di bene grazie a tutti per chi mi seguite mi mandate tanti commenti mi mandate messaggi privati mi scrivete veramente delle cose dolcissime siete veramente dolcissime con me quindi grazie 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 di cuore vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao ragazze grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti